Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Claudia e da un po' che non pubblico video, ma presto arriverò con tante nuove idee e tutorial per voi, con le creazioni di questo autunno e inverno, con le nuove lane e i nuovi prodotti che presto vi mostrerò. Però oggi volevo cogliere l'occasione per invitare tutte le amiche piemontesi che ci seguono, ma non solo, appuntamento alla fiera di manualmente a Torino Lingotto, dal 27, da giovedì 27, domenica 30, ci siamo anche noi presenti come stand, quindi mi trovate, mi troverete, lo stand è il numero A8 e io sarò super felice di conoscervi e di potervi anticipare alcuni dei prossimi tutorial, quindi mi raccomando venite a trovarmi. Ciao!